Costi, sprechi e corruzione mantengono alta l'insofferenza degli italiani nei confronti della politica. Non è dunque un caso se una famiglia su due giudica l'Italia un paese disorientato e con una classe dirigente mediocre. Ma nonostante ciò le famiglie non protestano e anche di fronte al permanere di un ciclo depressivo dei consumi e delle evidenti difficoltà economiche, tasse troppo alte, compressione dei redditi, erosione dei risparmi, problemi nella restituzione delle rate e dei mutui si adattano rimodulando i propri stili di consumo. Secondo un rapporto Censis-Confcommercio sono poche le famiglie che riescono a cogliere qualche segnale positivo sul fronte delle misure di politica economica messe in atto nell'ultimo anno, anzi è abbastanza diffuso il senso di insofferenza nei confronti di tutto ciò che rientra nella sfera che riguarda la classe politica e le misure approntate nell'ultimo anno di governo.